Bene, piccolo video per esplorare la possibilità di usare il laser nei mondi che costruiamo questo particolare mondo, che è questo ufficio, se utilizzato come evento permette di avere un laser che è appoggiato tra l'altro proprio qua sul tavolo invece quando creiamo un mondo non abbiamo il laser e allora come facciamo a puntare qualcosa che abbiamo lì? niente, adesso faccio un esempio stupido, facciamo www.lastampa.it quindi supponiamo di voler puntare un qualche cosa che c'è al video adesso qui ho fatto una cosa stupida, ma è solo per vedere il laser il laser potrebbe aiutarci per puntare, per far vedere tutti gli altri dove sto guardando sul video esiste un trucco per poter avere il laser senza averlo sul tavolo adesso qui l'ho già messo in atto, tra poco vi farò vedere come si fa comunque basta andare negli items qua, quindi nei settings poi vado negli items e sotto determinate condizioni compare sia la JimmyCam che magari farò un micro video che è il laser pointer facendo spawn vedete che abbiamo il laser qua il laser ci viene appoggiato più o meno davanti a noi per prenderlo basta andare col mouse e lo clicchiamo vedete che ce l'abbiamo e poi possiamo alzarlo a sinistra e a destra quindi esercitiamoci e poi possiamo cliccando col clic a sinistra vedete che possiamo puntare e quindi fin tanto che puntiamo abbiamo il laser pronto quando lasciamo il laser non funziona più e quando lo clicchiamo funziona ora c'è un modo che eh, sì c'è comunque, magari cambia leggermente da versione a versione per cui a un certo punto magari vi scappa di mano e lo perdete adesso credo che l'abbiano risolto questo problema per cui se non lo volete più dovete semplicemente andare qui nel laser ah no, ecco qui è stato spawnato e c'è un modo per abbandonarlo ah sì c'è praticamente un cioè ci sarebbe ma ma non si vede un granché quindi una volta che ce l'avete questo laser ve lo portate addosso va beh per vedere invece come ho fatto per per consentire al laser di comparire bisogna andare nella versione web quindi nella versione web andiamo sotto alt space quindi alt vr.com andiamo sui nostri mondi ovviamente ehm entriamo con la nostra password e nei mondi abbiamo dunque ore feature my worlds abbiamo il mio universo andiamo in uno di questi mondi che è questo qui boardroom meeting e qui vedete che ci abbiamo tutte le nostre informazioni qui se noi andiamo in edit quello che ho fatto ho dato i diritti di presenter al mio avatar salazarstenwag quindi facendo in questo modo automaticamente chi ha il ruolo di presenter ha la possibilità di usare il laser oltre che probabilmente anche di poter controllare le eventuali browser tra le altre cose ci sono altre cose ma le spieghiamo eventualmente in altro in altro posto quindi questo è tutto laser anche quando sembra che non ci sia buonasera che non ci sia che non ci sia che non ci sia